Ehi, sono veramente contento che tu ti sia iscritto all'interno del mio canale e proprio per questo motivo voglio farti un regalo davvero, davvero enorme che so che apprezzerai. Iscrivendoti subito al mio sito web avrai la possibilità di ottenere diversi video lezioni totalmente gratuite dove imparerai step by step come mettere le mani all'interno dei tuoi programmi PLC senza la paura di commettere errori dovuti alla poca esperienza. Iscriviti subito e noi ci vediamo all'interno. Ciao!